Quella della disponibilità di sangue in caso di calamità naturale o di grandi emergenze a seguito di eventi catastrofici è la vera emergenza. Coperte, viveri, tende, si lo sono certamente e tutto quanto è possibile fare per i sopravvissuti è una necessità. Ma come è avvenuto le altre volte nelle ore successive al sisma, man mano che la macchina dei soccorsi strappa i superstiti alle macerie, i feriti che riempiono gli ospedali necessitano di sangue. Sacche su sacche per non andare ad aumentare lo già sconsolante numero di chi non ce l'ha fatta. Per questo subito è scattato il piano di emergenza nazionale ed ogni regione, comune e provincia ha dato il suo apporto e Fano non è stata da meno. Infatti il primo appello che ho sentito io per radio venendo al lavoro la mattina del terremoto è stato quello del direttore sanitario dell'ospedale di Rieti che faceva un appello a tutti i donatori della zona di recarsi presso quel nosocomio per la donazione. Ovviamente questo poi è stato un tantam a livello nazionale e anche a livello regionale e anche noi seppure subito siamo stati in grado di fornire unità al centro regionale delle marche che poi eventualmente lo distribuiva a chi ne aveva bisogno abbiamo avuto un aumento dell'afflusso dei donatori. Un appello al quale i donatori dell'Avis non potevano mancare con grande trasporto e senso altruistico come loro abitudine nella normalità e maggiormente nell'emergenza. Noi siamo proprio pronti qui per ringraziare soprattutto i donatori perché in questo momento così di disastro e di tragedia e ostante anche la chiamata delle nostre segretarie i donatori si sono copiosamente portati al centro disfusionale per prestare appunto la loro opera di donazione e questo che è anche bello è stato perché anche chi non è stato chiamato volontariamente si è venuto a donare e anche molti nuovi donatori e questo è un fatto molto importante perché comunque c'è poi un avvio per la donazione. Quindi il nostro ringraziamento va a tutti questi donatori che hanno così potuto contribuire a questa emergenza.